Poi abbiamo Le parole per dirlo di Mary Cardinale che mi fu consigliato da un mio amico Ciao Dario, altro amico lettore ed è un romanzo molto toccante sulla storia di questa donna che decide di fare un percorso psicologico a seguito di una malattia fisica che si ritrova ma che palesemente scaturisce da problematiche psicologiche delle quali all'inizio della storia non è a conoscenza e quindi il percorso psicologico diventa una possibilità per approfondire la biografia di questa donna quindi con il suo passato i suoi lovi oscuri il rapporto insomma con la madre e questo è davvero un libro molto 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 bello quindi che consiglierei insomma a chi vuole fare vuole intraprendere questo genere di percorso anche chi in genere è interessato la psicologia come materia ecco come materia di studio o di lettura dopodiché aiuto abbiamo questa lontananza così vicina di Paolo di Paolo anche questo comprato per casa vabbè quando io leggo la roba tipo lontananza abbandono cioè il libro è mio praticamente è la storia toccantissima di uno studente che viene a sapere che la professoressa che lui aveva che aveva conosciuto a scuola a liceo è morta e lui ci rimane malissimo perché questa professoressa credo è professoressa d'italiano lo aveva illuminato sia sul mondo della letteratura sia sul mondo dell'umanità sull'uomo sui significati della vita insomma era una professoressa di letteratura molto illuminata come ce ne sono tante in effetti e la morte di questa donna gli dà la possibilità gli dà l'input per cercare di capire che persona ci fosse al di là della maschera professoressa e quindi fa tutta un'analisi insomma va a scoprire anche le persone che la conoscevano va a informarsi a documentarsi nei riguardi della vita di questa donna è molto toccante pieno di citazioni letterarie si vede che questo Paolo di Paolo o ha fatto lettere o sicuramente avrà fatto qualche studio studi letterari si capisce dalle citazioni che inserisce in maniera random e poi comunque piccolino voglio dire una lettura anche abbastanza abbastanza leggera consigliatissimo anche questo anche questo consigliatemi da un mio amico sempre Dario è Oliver Sacks l'uomo che scambia sua moglie per un cappello anche qui difficile raccontare presente Oliver Sacks è un neurologo che ha una particolarità lui oltre a scrivere testi articoli dei propri studi e quindi a condurre studi esperimenti scrive dei miei propri romanzi in cui trova il modo di mettere in chiave narrativa di piazzare in chiave narrativa quelle che sono le esperienze mediche che lui ha vissuto quindi tutte le patologie le svariate casistiche di patologie neurologiche in cui lui si è imbattuto le trasforma in storie racconti in romanzi più che altro sono racconti parte con la storia di quest'uomo che ha scaldato la sua moglie per un cappello poi racconta altre cose e quindi ti dà la possibilità di venire a conoscenza dell'esistenza di queste patologie però allo stesso tempo senza inquietarti senza farsi sentire non so se avete paura delle malattie o cose del genere se siete poi in pocondria come me no non vi dà questa sensazione anzi ve la trasforma comunque in una lieta e piacevolissima lettura e tra l'altro vabbè non è qui sta da qualche altra parte ma di lui consiglio tantissimo musicologia che è anche un altro suo testo sempre dove neurologia e romanzo si incontrano ed è sulla musica quindi doppiamente bello e qui proprio passiamo da diciamo rosoconte storie allegre e semplici o se vogliamo anche divertenti a un angolo più buio perché c'è qui abbiamo sia il romanzo di Silvia Plath La campana di vetro sia poi questo rosso qui che sono praticamente il suo diario che fu pubblicato a post dopo che la scrittice si suicidò mettendo la testa nel forno diciamo qui vi dico insomma che non stiamo trattando una lettura semplice e la storia anche qui ha molto dell'autobiografia lei ottiene un successo letterario del quale probabilmente anche lei stessa non non si credeva capace ma subito dopo viene rinchiusa in un manicomio se non erro comunque ha dei trattamenti di questo genere che la traumatizzano tantissimo comunque anche in questo romanzo parla precisamente di questo momento di depressione in cui calda la solitudine terribile che scaturisce da questo momento di successo letterario che poi va effettivamente a coinvolgere tutti gli aspetti della sua vita e nella realtà la scrittrice insomma vi ho detto si è suicidata e nel nel diario è raccontata tra l'altro anche in maniera più dettagliata la sua vita quindi i suoi incontri il suo amore anche la sua secondo me è un profondo senso di solitudine si avverte dai diari e soprattutto il suo rapporto con Ted Hughes che è il marito il quale si dice che almeno credo sia vero comunque che ha fatto epurare i diari delle parti più pesanti in cui parlava di lui perché apparentemente non avevano un buon rapporto comunque lei non voglio dire che lui sia stato la causa della morte di questa scrittrice perché insomma il suicidio è sempre una scelta personale però se questa donna stava male insomma se queste pagine di diario sono state eliminate e non si trovano sono state distrutte da questo ma vuol dire che questo è una scuola non sembra così difficile pensarlo in ogni caso questo non ci interessa nel senso che più che altro non ci riguarda e riguarda più che altro mi riguarda più che altro la lettura dei pensieri di questa donna che a me è stata una delle più grandi scrittrici donne finalmente una scrittrice donna che non se ne trovano tante ce ne sono sempre il numero minore insomma direi che è da considerare da considerare questo il diario e il romanzo e anche le poesie che ha scritto di questo qua a Gargoyle vi farò il video perché è uno dei miei libri preferiti quindi non si può ridurre a solo due rigli e quindi abbiamo il mondo dei ragazzi normali anche in questo caso la storia di un ragazzo che si si rende conto di essere omosessuale appunto il mondo dei ragazzi normali è un titolo diciamo sarcastico e vive nella fatica tra l'altro anche una profonda tragedia a livello familiare ma non so come mi salto al mente di comprare questo io ero molto sperimentatrice prima quando andavo in biblioteca cercavo ora sono un po' più cauta con gli acquisti comunque sarà anche per una questione economica ovviamente sono più cauta però comunque non è male riconoscendo che questa edizione è piena di errori comunque suppongo che è stato ristampato spero li abbiano corretti insomma vabbè e quindi ok qui sì sì no polaniuk polaniuk come dice lui dice non si dice palaniuk ma polaniuk e sia perché la gente apparentemente sbaglia a a a pronunciare il suo cognome ma non è che siano dei cognomi più facili di questo mondo comunque soffocare fatklad soffocare mi è stato regalato da mio ex ragazzo e quindi non ne parleremo e fight club l'ho comprato dopo aver visto il film e tra l'altro ho anche da qualche parte cavia invisible monster ce ne ho parecchi recentemente ho capito che questo autore non va letto italiano va letto in inglese perché vale vale veramente la pena di leggerlo in lingua originale l'ho capito più che altro trovando poi effettivamente delle citazioni anche su facebook scritte in lingua originale che probabilmente meriterebbe di più la lettura in lingua originale però comunque sì mi piace non mi piace non lo so mi piace cavie non mi piace non mi piace assolutamente mi disgusta però in realtà mi piace nel senso il suo stile narrativo è un po' volgare un po' cinico se vogliamo diciamo sempre molto aperto disponibile a parlare di sessualità in maniera abbastanza spinta però da un lato mi spaventa questa lettura dall'altro lato invece ammiro la sua capacità di essere così abile a parlare di determinate tematiche un po' sporche un po' oscure di quelle tematiche di cui non molti scrittori effettivamente parlano va bene tratta la realtà in maniera molto cruda forse in maniera reale esatto non in maniera sognata idealizzata tratta la realtà però non lo so io ho sempre qualche punto interrogativo in realtà mi piacerebbe leggere più romanze scritte in questo modo però c'è una parte di me che un po' li rifiuta perché in realtà sono io che apprezzo sia le letture più ideali un po' più dolci un po' più tene un po' più liriche e lui non rispecchia questi parametri però non per questo si può dire che non sia un bravo scrittore anzi no assolutamente per questo chissà che la lettura in lingua originale non non riveli qualcosa di più ecco ma ne sono abbastanza sicura io per esempio ho cestinato questo vabbè insomma e poi infatti esattamente come ho appena detto accanto c'è proprio un autore che con Polanik non c'entra niente non proprio niente ed è quello queste sono proprio letture molto molto vecchie e fanno parte proprio di un periodo della mia vita veramente veramente lontano almeno 10-12 anni fa e entrambe queste letture Veronica decide di morire e sulle sponde delle prime pietre mi sono seduta e ho pianto mi furono consigliati da da un ragazzo che mi piaceva molto e che col quale non è successo niente vabbè e che all'epoca sì sono tentata di salutarlo tramite i video ma tanto non so dove sia adesso quindi è inutile e all'epoca mi disse che la nostra storia era un po' come quella del personaggio sulla sponda del fiume pietra ok io disse ah devo assolutamente leggerlo e cioè quando una persona che non vi ama o non vi vuole vi consiglia un libro è sempre un po' come una pugnalata nel cuore e quindi diciamo che vabbè l'ho letto ho capito qual è il diciamo il terzo comparazione fra questa storia e la mia storia però vabbè sì comunque carino molto più bello invece Veronica decide di morire secondo me mi dicono che gli attuali libri di Coero non sono belli come i primi io ho quelli di recente non li ho letti però comunque questo sì mi è piaciuto tantissimo la storia è davvero toccante poi ripeto sempre la questione del gusto del libro del fatto che ti possa piacere o non ti possa piacere secondo me dipende sempre dal periodo della vita in cui lo leggi quindi nel momento in cui il libro non ti piace evidentemente è capitato nella tua vita nel momento sbagliato con questo non voglio dire che ti debbano piacere tutti i libri che tutti i libri sono belli però mi sembra davvero strano che possa esistere al mondo un libro che non ha niente niente da dire poi può dirlo male può dirlo in modo sbagliato e può dirlo in maniera superficiale però non esiste secondo me un libro che non ha nulla da dire piuttosto esiste un libro che non ha da comunicarti il messaggio giusto al momento giusto quando ho letto Veronica decide di morire era il momento giusto secondo me che non ha nulla da dire